Vado a trovare la luna, un forestiero a Bologna, di Paolo Nori. Sono dieci anni che tengo dei corsi di scrittura a Bologna e tutti gli anni il numero dei bolognesi che partecipano a questi corsi è sempre inferiore al numero dei non bolognesi. E una volta, nel 2018, delle 15 persone che frequentavano il corso nessuno era nato a Bologna, nemmeno io, che abito a Bologna dal 1999, ma sono nato a Parma. Una volta, qualche anno fa, mi hanno invitato in un liceo bolognese e mi hanno presentato come scrittore bolognese. E io ho ringraziato e ho detto che mi dispiaceva. Io ero di Parma ed essere uno di Parma a Bologna, avevo detto, era come essere il protagonista di quella canzone di Sting An Englishman in New York, mi era scappato di dire. La grammatica del bottegaio. Non so se esistono delle statistiche sulla percentuale di non bolognesi che abitano a Bologna rispetto al totale della popolazione. Ma se dovessi dire, in base alla mia esperienza, a tutte le persone che ho incontrato a Bologna nei 19 anni che ci ho abitato, io direi che il 70%, perlomeno, sono come me, vengono da fuori. Mi ricordo nel 2005, in occasione delle elezioni regionali pugliesi, le strade del centro, via Zamboni, Largo Respighi, via Belle Arti, erano tappezzate di manifesti che invitavano a votare i candidati alla presidenza della Puglia. E uno che fosse venuto da fuori e con scarse nozioni di geografia, un turista australiano, faccio per dire, per il quale l'Italia è un concetto esotico, è agli antipodi il più esotico che si possa immaginare. Beh, quel turista lì avrebbe pensato probabilmente che Bologna era in Puglia. Invece no, è in Emilia-Romagna. Ma Bologna, come dicevo, non è solo diversa da Bari o da Cagliari, o da Palermo, o da Trieste, o da Roma. È anche molto diversa da Parma. Tanto diversa che io, i primi 16-17 anni che ci ho abitato, mi sono sentito un po' come in esilio, che era indubbiamente una cosa che poteva sembrare ridicola. Ma a Bologna, a 90 chilometri da Parma, c'erano delle parole, non so, salviettone, no? Che vuol dire salvietta grande, asciugamano grande, telomare. Ecco, io finché avevo abitato a Parma, ero convinto che salviettone fosse una parola che in Italia la capivano dovunque. Quando mi ero trasferito a Bologna, che avevo capito che a Bologna salviettone era una parola che non la capiva nessuno, c'ero rimasto malissimo. Mi ero reso conto di essere dentro un esilio linguistico che valeva anche al contrario, che quando uno va dal bottegaio a Bologna e gli chiede, per dire, duetti di prosciutto di Parma, il bottegaio di solito, dopo che ti ha tagliato i duetti di prosciutto di Parma, ti chiede, altro? E te, se non vuoi altro, devi rispondergli, altro. E se invece gli rispondi, nient'altro, il bottegaio capisce che non sei di Bologna, sei di Parma. An Englishman in New York. C'era un ragazzo toscano che aveva fatto uno di quei corsi che facevo io, che per Natale doveva tornare nella sua città toscana, Livorno o Pisa, non mi ricordo, ed era andato a comprare una punta di parmigiano e il formaggiaio gliel'aveva data e poi gli aveva chiesto altro e gliel'aveva chiesto con un tono così categorico come se non dubitasse che quel ragazzo toscano di Livorno avesse voluto qualcos'altro e quel ragazzo di Livorno o di Pisa, che non voleva nient'altro, aveva detto sì, me ne dica un'altra e aveva preso un'altra punta di parmigiano reggiano della quale non aveva nessun bisogno e io mi ricorderò sempre, è stato nel 2016, ero dal bottegaio, ho ordinato duetti di prosciutto di parma e il bottegaio me li ha tagliati, me li ha dati e poi mi ha detto altro e io mi sono sentito rispondere altro e dentro di me ho pensato ecco, dopo 17 anni mi sono ambientato impressioni dal crescentone e da bolognese da Tozione mi sento in diritto di dare qualche consiglio ai non bolognesi che dovessero visitare questa città e indicherò alcuni posti che per me sono posti incantevoli anche se frequentati da gente che non sa cosa vuol dire salviettone la sala borsa la cineteca il museo della memoria di Ustica il museo d'arte moderna della città di Bologna poi vorrei dire due o tre cose che ho imparato in questi quasi vent'anni e che mi sembra possano essere utili per chi viene a Bologna la prima è che gli spaghetti alla bolognese che è un piatto che ho visto sui menù dei ristoranti di tutto il mondo di Parigi di Mosca di Dakar ho anche letto recentemente che il calciatore Paul Pogba quando si è trasferito dalla Jugoslavia al Manchester United ha chiesto e ottenuto che la sua cuoca italiana lo seguisse in Gran Bretagna e io avevo pensato che doveva essere proprio un buon gustaio questo Pogba solo che poi nel pezzo in cui l'ho letto che era se non ricordo male un'intervista alla cuoca le si chiedeva quale fosse il piatto preferito di Pogba e lei rispondeva gli spaghetti alla bolognese e io pensavo no non è un buon gustaio perché gli spaghetti alla bolognese a Bologna deve essere l'unica città del mondo Bologna che non li fa nessuno gli spaghetti alla bolognese per via del fatto che ho chiesto a un ristoratore bolognese la pasta di semola con il ragù non si sposa bene se vuole mangiare un piatto alla bolognese mi ha detto quel ristoratore mangi le tagliatelle al ragù un'altra cosa che non sapevo quando abitavo a Parma è che in piazza Maggiore su quella specie di grande zoccolo che c'è in mezzo che a Bologna chiamano il crescentone lì i bolognesi la domenica portano i bambini a correre dietro ai piccioni quelli a cui piace correre dietro ai piccioni e gli altri quelli a cui non piace correre dietro ai piccioni portano i bambini a vedere chi ha la testa più grande da questa postazione poi dal crescentone i bolognesi che la conoscono bene non la guardano più Bologna ma i non bolognesi che si trovano sul crescentone in piazza Maggiore da qui si trovano nel punto ideale per guardare la celebre basilica di San Petronio uno degli incanti della quale consiste nel fatto che evidentemente non è finita sono così belle le cose che non sono finite un libro da finire un film da finire una cattedrale da finire mi viene in mente la strofa di una canzone che dice io voglio aspettare che la fame cresca e che magari non passi mai il cantautore si chiama Federico Fiumani e non è di Bologna è di Osimo ma scrive delle canzoni belle anche essendo di Osimo beh a guardare la facciata di San Petronio così unica nella sua incompiutezza la fame non vi passa mai e se poi volete avere ancora più fame io vi consiglio di fare tutta San Petronio per il lungo di passare davanti all'archiginnasio che è la sede dell'università di Bologna che a Bologna dicono che sia la più antica università del mondo a Parigi dicono che è quella è quella di Parigi di arrivare in piazza Calvani e da lì guardare il retro di San Petronio che dal retro se fosse possibile è ancora più evidente che hanno interrotto i lavori a metà e lasciato in sospeso così adesso i gusti sono gusti ma per me il retro di San Petronio è il più bel retro di cattedrale che ho mai visto in vita mia